Musica Questa notte ho segnato camera mia. Io ho steso sul letto e ho una donna davanti a me che mi dava le spalle fissando il muro. Quando sono andata a toccarla per farla girare, la donna in questione mi ha aggredita mortendomi con una ferocia veramente immensa. Parlandone con mia madre ho scoperto che pure lei ha sognato questa donna, con capelli neri e lunghi, che la fissava, sempre in camera sua e idem mia sorella. Lei addirittura l'ha sognata una seconda volta e anche stavolta la stava aggredendo, ma svegliandosi mia sorella si è ritrovata dei graffi. Io invece ho degli arrossamenti e qualche graffio. La donna l'ho vista sempre di spalle. Non ho visto il viso nemmeno mentre provava ad aggredirmi. Il sogno era molto lucido e quando ho aperto gli occhi avevo la stessa vista di camera mia che avevo nel sogno, la stessa identica prospettiva. La cosa mi turba molto, anche perché come detto prima non sono l'unica a sognare questa donna. Cosa potrebbe essere? Giorgia